I carabinieri della Compagnia d'Ivrea, coordinate dalla locale procura della Repubblica Porghiese, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tra persone di origine nordafricana, ritenute responsabili di aver provocato la morte di un loro prossimo congiunto a seguito di un esorcismo effettuato con il rito islamico. La sera del 10 febbraio scorso i carabinieri della stazione di Quornier sono intervenuti in un'abitazione del comune canavesano a seguito del decesso di un 43enne per sospetto avverdose. Le prime verifiche svolte nei militari hanno permesso di accertare che nel mese precedente l'uomo era stato sottoposto da almeno due sedute di esorcismo con il rito islamico, poiché è ritenuto dai propri congiunti posseduto dai demoni. Inoltre i stessi accertamenti hanno confutato le dichiarazioni iniziali rese dei sospettati che hanno cercato di sviare le indagini. L'esito dell'autopsia ha poi stabilito la causa del decesso, ossia soffocamento. I successivi approfondimenti, eseguiti con il supporto del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Ivrea, hanno fatto chiarezza su retroscena che hanno coinvolto l'ex coniuge, il fratello e lo zio della vittima. Quest'ultimo, figura di riferimento della comunità islamica, avrebbe guidato i rituali che in almeno un'occasione avrebbero condotto al malcapitato a dover far ricorso a cure ospedaliere per lesioni subite. Invece quella sera nell'abitazione di Salassa, alla presenza degli indagati, il rito di esorcismo non ha portato all'effetto desiderato, ma bensì alla morte dell'uomo. Nella mattinata di sabato 23 marzo, a seguito di convalida dei fermi di indiziato di delitto, è stata applicata la misura del carcere per due di loro, mentre per la donna la misura cautelare delle arresti è domiciliare.